Corruzione e turbativa d'asta, arrestate 8 persone, tra cui il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. Biglietti falsi per lo stadio Renzo Barbera di Palermo, arrestati Bagarini, Ultra e Tabaccai. Oggi in Aula Magna, al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, la cerimonia di consegna dei libri destinati ai reparti pediatrici. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di venerdì 23 febbraio. Corruzione e turbativa d'asta, arrestate 8 persone, tra cui il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. All'alba l'operazione della Guardia di Finanza disposta dalla procura distrettuale antimafia di Catania. Vediamo. 8 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza per corruzione e turbativa d'asta a conclusione di indagini sui comuni di Acireale e Malvagna. Tre destinatari del provvedimento cautelare, 5 in carcere e 3 domiciliari, emesso dalla GIP su richiesta della procura distrettuale etnea, anche il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, eletto con una lista civica. L'operazione, denominata Sibilla, scattata alle prime luci dell'alba, è la conclusione di una lunga inchiesta condotta alla finanza sotto la direzione della procura di Catania, che ha portato alla luce diversi episodi di corruzione e turbativa d'asta nella gestione della cosa pubblica. Un grave episodio di corruzione ha visto coinvolto il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, il quale, per favorire la campagna elettorale del suo referente politico, ha spinto due piccoli imprenditori accesi a promettergli il voto con l'ausilio di un luogotenente e la polizia locale, Nicolo Urso. Altro episodio contestato riguarda la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Acireale, opera pubblica affidata all'ATI San Sebastiano SRL con sede a Ravenna. Durante la fase terminale dei lavori, il responsabile della protezione civile del comune, Salvatore Di Stefano, ha curato il collaudo dell'opera, attestando che l'intervento era stato eseguito a regola d'arte. Tuttavia, nella certificazione redatta al dirigente, sono state indicate operazioni di verifica strutturale presso il cimitero in realtà mai effettuate. Per il collaudo, il funzionario pubblico ha fatturato alla società 6.600 euro a titolo di compenso professionale. La somma ricevuta è stata qualificata come tangente per la buona riuscita delle operazioni di verifica. Condividendo l'ipotesi formulata alla procura, il GIP ha ordinato la traduzione in carcere di Di Stefano e del referente dell'ATI, Salvatore Leonardi, nonché la misura degli arresti domiciliari per il consulente tecnico, Angelo Laspina. Infine, le indagini hanno avuto ad oggetto alcuni incarichi professionali relativi alla progettazione di impianti sportivi affidati illecitamente dai comuni di Acireale e Malvagna al consulente locale del CONI, Anna Maria Sapienza, e a un ingegnere catanese, Ferdinando Garilli. Sottoposti l'una a custodia cautelare in carcere, l'altro agli arresti domiciliari, perturbata libertà degli incanti. La Sapienza, insieme al comitato, ricopre un ruolo istituzionale di referente per gli enti locali della Sicilia orientale che intendono richiedere erogazioni pubbliche a favore dello sport. In particolare, esprime un parere tecnico vincolante sulle proposte che le vengono presentate per poi inoltrarle alla sede romana del comitato ai fini dell'erogazione del finanziamento. Tra le proposte validate nel 2017 rientrano anche quelle relative alla riqualificazione della pista di atletica presso il centro sportivo Tupparello di Acireale e del campo di calcio di Malvagna. In entrambi i casi, la Sapienza, in cambio del parere favorevole, ha ottenuto per il collega Ferdinando Gariglie per sé l'incarico di redigere il progetto dei medesimi impianti sportivi retribuiti con un compenso rispettivamente di 5.000 e di 14.300 euro e attribuito con una finta gara al massimo ribasso. Biglietti falsi per lo stadio Renzo Barbera di Palermo, arrestati Bagarini, Ultra e Tabaccai, smantellate due associazioni per delinquere dedite alla truffa e all'accesso abusivo ai sistemi informatici. In totale la finanza ha eseguito nove arresti. Più della metà dei biglietti ridotti allo stadio Renzo Barbera per gli incontri del Palermo erano intestati a soggetti che semplicemente non esistevano. Non solo, alcuni titoli erano completamente falsi, acquistati e intestati a persone morte. Una truffa senza precedenti, scoperta dalla Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di nove persone. A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno fermato e posto agli arresti domiciliari nove persone e notificato un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di smantellare due associazioni a delinquere dedicate alla truffa e all'accesso abusivo a sistemi informatici. Le investigazioni condotte hanno consentito anche di accertare reati che hanno a che fare con la falsificazione, intestazioni inesistenti, successiva rivendita di titoli di accesso allo stadio per le partite casalinghe del Palermo Calcio. In particolare, i biglietti risultavano essere intestati sistematicamente a soggetti non reali o titolari di agevolazioni e sconti come under 14, over 65 e riduzione donna, sfruttando illecitamente la forte scontistica prevista per tali categorie. Oltre il 60% dei titoli ridotti emessi per gli incontri di campionato sono risultati essere intestati a soggetti inesistenti con la successiva e fraudolenta emissione sul circuito di vendita di oltre 4.000 tagliandi d'accesso. Le associazioni per delinquere erano composte da titolari di ricevitorie autorizzate, da rivenditori abusivi, i classici bagarini, da capi ultra e da esponenti di spicco del tifo organizzato rosa nero che hanno aggirato le norme poste a tutela della sicurezza degli stadi oltre a truffare lo Stato e il Palermo Calcio. Le attività di indagine, durate circa un anno e sviluppate su diverse rivendite di Palermo e provincia, hanno interessato i campionati di calcio degli ultimi anni e hanno portato, oltre all'esecuzione delle misure cautelari personali, anche alla segnalazione di altri 23 individui, nonché al deferimento alla prefettura di 65 persone per diverse violazioni amministrative. Nel corso delle indagini sono stati inoltre sequestrati 123 titoli falsi, alcuni dei quali acquistati e intestati addirittura a persone decedute. Il turismo in Sicilia è in crescita e i risultati raggiunti sono più che promettenti, ma si può ancora fare di meglio, a dirlo è l'assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo. Parlando ovviamente di turismo, come parlavamo poco fa, noi abbiamo, non voglio parlare del passato, perché comunque ogni scelta ritengo sia stata motivata da un piano strategico, da la situazione politica e economica, ma non è detto che le scelte passate debbano essere condivise, e noi non le condividiamo. Abbiamo dato una svolta, direi, epocale in questo settore, perché chiaramente la Sicilia potrebbe vivere di turismo, abbiamo tutto. Abbiamo i beni culturali che il mondo ci invidia, abbiamo un clima idone al turismo dal 1 gennaio al 31 dicembre, spiagge, parchi, è inutile commentarli qui in Sicilia, abbiamo il numero di siti Unisco pari all'Egitto. Abbiamo collezionato nel 2017 14 milioni e 300 mila turisti, non siamo contenti, numeri troppo bassi, che ci vedono in un panorama nazionale e al nono posto, ma in realtà siamo convinti che come aspettative, come possibilità dobbiamo e possiamo essere al primo posto. Basti pensare che l'isola di Malta ha collezionato 13 milioni di turisti e non ha nulla rispetto a noi. Bene, abbiamo deciso di creare un nuovo brand, penso non sia sfuggito a nessuno, in particolare a voi della stampa e delle televisioni, quello che abbiamo fatto alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Abbiamo creato un nuovo brand, lo stiamo esportando in tutto il mondo, lo esporteremo in tutto il mondo, abbiamo iniziato a Milano, grande successo, abbiamo creato direi uno stand emozionale, abbiamo portato la nostra orchestra, abbiamo portato i nostri teatri, abbiamo portato la nostra tradizione popolare dei pupari e avreste dovuto vedere, e questo ha colpito anche noi, migliaia di persone in fila per vedere il nostro spettacolo dei pupari. Abbiamo fatto assaggiare la nostra reno gastronomia, che chiaramente non è seconda a nessuna regione dell'Italia. Bene, noi crediamo che quelle migliaia e migliaia e migliaia di persone che si sono approcciate, che hanno visitato il nostro stand, abbiano ricevuto le giuste, abbiano potuto vedere i nostri colori, i nostri profumi, che saranno sicuramente rimaste favorevolmente colpite e ci verranno a visitare. Abbiamo convinto Air Malta, che è una delle compagnie, forse la prima compagnia aerea come investimento nel Mediterraneo, ad investire sulla Sicilia con 15 nuove rotte. Abbiamo aperto la rotta Vienna-Catania, apriremo Londra-Catania, poi Berlino-Catania e altre rotte. Stiamo dialogando con le compagnie aeree a livello internazionale per l'apertura di una rotta diretta Cina-Palermo. Tutto ciò che avvicina la Sicilia all'Europa e permette un incremento del camion turistico sarà oggetto di attenzione del governo della regione siciliana. Stamattina in Aula Magna, al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, la cerimonia di consegna dei libri destinati ai reparti pediatrici raccolti dall'Associazione Volontari Ospedalieri di Palermo in collaborazione con la casa editrice Paoline. È dimostrato che la lettura, soprattutto la lettura d'alta voce, da parte della madre al bambino, fin in epoca precocissima, migliora le capacità di relazione del bambino, le capacità linguistiche del bambino, le capacità cognitive. Quindi ha veramente una valenza importante e serve anche a contrastare un po' il dilagare un po' dell'utilizzo di tutta la tecnologia. Credo che la lettura possa contribuire insieme a tante altre cose che noi dobbiamo mettere a disposizione. Ovviamente ringrazio le associazioni, le Paoline, l'Avo che ci hanno dato questa possibilità e questa donazione. Noi possiamo solo facilitare tutto questo perché cercare di rendere più umano il rapporto con i pazienti, soprattutto con i pazienti più fragili che sono i bambini. L'umanizzazione passa da tante cose, dal rapporto umano, dal tratto, da come si accolgono i pazienti, anche con questi gesti di una donazione di un libro che in ogni caso serve alla gestione di una permanenza in una struttura che di per sé non è il massimo per andare a essere ricordato in un ospedale. La possibilità di poter trascorrere il tempo con questi soggetti e con questo mezzo e con un libro credo che sia assolutamente compatibile con una sanità diversa che deve essere sempre più dedicata e destinata a un'umanizzazione delle cure e a un'etica del rapporto. La malattia non si cura soltanto con le medicine ma anche con l'affetto, con la vicinanza al malato e anche con la lettura. Questa è un'iniziativa nazionale che ha organizzato Federavo Nazionale assieme alla casa editrice delle Paoline e stiamo donando tutti i libri raccolti nei punti vendita delle Paoline ai reparti pediatrici del Policlinico e di Villa Sofia Cervello. A Palermo abbiamo avuto un ottimo successo e abbiamo raccolto circa 150 libri e nell'arco di tre giorni quindi considerate che in pochissimo tempo siamo riusciti ad avere un ottimo risultato in termini numerici e questo ci permette di poter migliorare ed essere sempre più presenti all'interno degli ospedali Policlinico e Villa Sofia Cervello affinché il malato non sia soltanto un numero non sia soltanto una persona da curare ma sia una persona da ascoltare. Questa iniziativa è il quarto anno che le Paoline d'Italia fanno in tutte le librerie Paoline della Nazione ogni anno c'è un tema quest'anno è proprio stato un pensiero di dare spensieretezza un pensiero per dare un momento di conforto di relax ai bambini e alle persone che sostano negli ospedali ogni anno si sceglie un'associazione quest'anno l'associazione con cui si è collaborato è appunto l'Avo quindi il nostro impegno è proprio questo i clienti, le persone che entrano nelle librerie comprano dei libri noi nello stesso tempo secondo metti in una libreria ne hanno presi 150 le Paoline raddoppiano aggiungono altri 150 quindi questo in tutte le librerie quindi diventa che in questi anni si arriva anche a 10.000 libri all'anno da consegnare Apertura al Teatro Massimo è un calendario che va da marzo a dicembre presentata al Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo la nuova stagione con la programmazione 2018 il Conservatorio si conferma prestigiosa sede di insegnamento e centro attivo di cultura con particolare attenzione ai suoi giovani talenti e alla valorizzazione delle presenze che hanno fatto e fanno la storia della musica in Sicilia e non solo Con la programmazione 2018 il Conservatorio di Palermo si conferma prestigiosa sede di insegnamento e centro attivo di cultura vero e proprio laboratorio di formazione e di produzione musicale aperto alla città con particolare attenzione ai suoi giovani talenti e alla valorizzazione delle presenze che hanno fatto e fanno la storia della musica in Sicilia e non solo Il concerto inaugurale al Teatro Massimo il prossimo 4 marzo alle 18 è uno dei primi significativi appuntamento delle manifestazioni di Palermo capitale italiana della cultura Dopo aver celebrato i 400 anni di storia il Conservatorio si inserisce nella prospettiva dello straordinario anno culturale che vivrà a Palermo come uno dei più dinamici e fondamentali punti di riferimento della città detto il presidente Gandolfo Librizi Con le sue migliori formazioni artistiche e i suoi allievi il Conservatorio alimenterà il flusso di eventi che animeranno la città lungo tutto il corso dell'anno e si presenterà con una veste rinnovata grazie ad alcuni interventi che faranno il Conservatorio una vetrina di grande risalto Il calendario, completo nella sua definizione di date e sedi fino a luglio presenta concerti, progetti istituzionali convegni, attività per gli studenti masterclass, workshop con il Goethe Institute rivolte alle classi di composizione di musica elettronica eventi in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo e gli Amici e la Musica alcuni già definiti col Massimo come il Festival di Nuove Musiche la messa in scena del duello di Paesiello opera destinata agli studenti delle classi di canto e altri in via di definizione e ancora quest'anno il Conservatorio ospiterà il Premio Nazionale delle Arti per la Sessione Strumenti a Percussione con i migliori studenti dei conservatori italiani numerose e ricche di storia e di arte le sedi in cui si svolgerà la stagione 2018 dalla Sala Scarlatti che ospiterà concerti, resi talpianistici ed esecuzioni degli allievi più meritevoli all'elegante atrio dell'istituto che per Palermo, capitale italiana della cultura la prossima estate sarà sede di una settimana jazz con le esibizioni degli studenti delle classi jazz al Teatro di Santa Cecilia con l'Orchestra Jazz Siciliana e la Balarma Saxa Orchestra all'Oretatorio di Santa Cita perfette ambientazioni per esecuzioni barocche come Ardo e Verre alla Chiesa di San Domenico il programma si concluderà a dicembre mese ricco di appuntamenti che vede fra gli altri il gradito ritorno a Palermo del soprano Desiree Rancatore domani e domenica il San Lorenzo Mercato di Palermo ospita la sfida delle sfide al centro del contendere lo sfincione il re del cibo di strada in gara bagheria Casteldaccia Aspre e Palermo territori simbolo di una tradizione gastronomica antica vediamo San Lorenzo nasce e è nato due anni fa ormai esattamente con questa filosofia il fatto di diventare proprio un punto di riferimento per celebrare il cibo il buon cibo in tutte le sue forme e lo celebriamo non soltanto con l'offerta gastronomica del mercato della ristorazione e della spesa ma soprattutto grazie agli eventi che vanno esattamente in questa direzione e l'intento è quello di giocare un po' col cibo e con la percezione che del cibo hanno gli appassionati i gourmet ma anche le persone che hanno legato all'esperienza del cibo una parte importante della propria vita il mercato nasce esattamente con la filosofia di accorciare in qualche modo la filiera che porta dalla produzione e dalla coltivazione in sé anche per esempio della materia prima fino al momento in cui un prodotto viene trasformato e acquistato dal cliente quindi accorciare la filiera significa avere più controllo più garanzia più garanzia non soltanto di sicurezza ma anche di genuinità del prodotto e il prossimo fine settimana giocate con lo Sfincione una gara fra quattro tipi di quest'ottimo prodotto tipicamente siciliano sì è un appuntamento a cui in realtà noi lavoriamo da tanto ci pensiamo già da più di un anno e lo facciamo siamo felici di farlo perché abbiamo già sperimentato come alcuni capisaldi della tradizione gastronomica siciliana siano in realtà non soltanto un oggetto di favoritismi oppure di passione speciale ma siano quasi oggetto anche di campanilismo nel caso dello Sfincione non ci potrebbe essere un esempio migliore una pietanza così antica che però nel giro di pochissimi chilometri cambia radicalmente la sua natura fino a creare dei prodotti che hanno lo stesso nome ma che sono in realtà molto diversi a noi sembrava l'occasione ideale per mettere a confronto alcune delle eccellenze del nostro territorio e porre le persone in primo piano per far gustare in un unico posto avere la possibilità di gustare in un unico posto quattro Sfincioni totalmente diversi fra di loro che condividono lo stesso nome ma filosofie totalmente diverse è un modo per fare cultura attorno a una pietanza siamo qua anche come pianatore abbiamo accolto l'invito del mercato del San Lorenzo mercato per questa partnership perché noi abbiamo sviluppato già nel territorio del comprensorio bagherese queste iniziative di valorizzazione del re del cibo di strada e devo dire da noi c'è questa caratterizzazione perché è frutto ecco della storia e dell'identità soprattutto è frutto di due culture diverse la cultura contadina e la cultura marinara che si mischiano e producono ovviamente quell'eccellenza dello Sfincione Bianco di Bagheria che è fatto come si sa con la Tuma e con la Ricotta ma anche con la Sarda Salata piuttosto quello di Casteldaccia fatto che è a metà strada tra quello famosissimo lo Sfincionello di Palermitano che è rosso e con uno strato di Tuma e soprattutto la versione marinara ecco il quarto il quarto comune che concorrerà alla quarta tipologia che è quella di Aspre che è la vera novità che è una versione marinara che rispecchia un po' il condimento anche della pasta con le Sarde per cui possiamo ecco dire che la fusione è il mix delle culture dei nostri territori praticamente In the Middle of the Universe questo è il titolo del nuovo album di Renato Scozza ricantautore palermitano un viaggio musicale in stile pop dance al centro dell'universo nove canzoni in lingua inglese per un contest sul futuro di una umanità che guarda alle stelle In the Middle of the Universe è un titolo particolare In the Middle of the Universe perché parla a livello di testi del futuro dell'umanità che andrà ad abitare altri pianeti mentre dal punto di vista musicale è un disco prettamente pop dance ispirato dalla musica degli anni 70 80 New album Sono venuto paragonato al Pescio Boys David Bowie Duran Duran ma è anche perché un po' tutta la musica che ho ascoltato in questo periodo Come mai in inglese stavolta? In inglese stavolta dopo tre album strumentali uno italiano un singolo in spagnolo stavolta in inglese a richiesta dei miei amici e fan americani e un po' tutti gli altri sparsi nell'estero all'estero perché mi domandavano dato che parli inglese quando ce lo farei questo regalo di fare un album in inglese e quindi ecco finalmente l'album in inglese in The Middle Universe E allora qual è il destino dell'umanità in questo album? Ma il destino dell'umanità si spera che sia votato all'amore senza più guerre con tante nuove tecnologie e questi brani parlano di tutto questo è un concept album Ci sono degli eventi in programma? Eventi in programma c'è il 24 marzo la prima tappa del mio tour qui a Palermo all'interno del festival intorno a rumori Soundfest all'Oratore San Mercurio il 24 marzo Renato Scozzari Band L'agenzia Image e Communication di Flavia Fontana in occasione della festa della donna l'8 marzo ha organizzato un evento che mira a ricordare il ruolo della donna nella società nella vita di tutti i giorni e nel mondo L'appuntamento è alle ore 18 al Teatro Ottotuccio Aiello di Carini È un evento di carattere socioculturale ma anche di intrattenimento che si farà in occasione tra virgolette della festa della donna perché io la vivo da sempre come una commemorazione perché in realtà è quella non è una festa e in occasione abbiamo deciso di affrontare due temi molto rilevanti che sono quelli del femminicidio e della violenza nei confronti delle donne un modo per gridare tra virgolette no e dire basta alla violenza nei confronti delle donne sia psicologica che fisica ci saranno momenti con addetti al settore quali psicologhe avvocati comunque tutto un parterre di donne per l'occasione dove si affronterà questo importante tema e si daranno delle informazioni utili dei numeri utili e soprattutto si daranno dei messaggi sull'iter da seguire per chi vive purtroppo questi episodi spiacevoli in più nel corso della manifestazione dell'evento si consegneranno cinque premi a cinque donne che da anni a questa parte si sono distinte chi nel sociale chi in politica chi nell'arte comunque sia cerchiamo comunque di smorzare i toni grazie ai momenti di intrattenimento che ci regalerà l'attrice Sandy di Natale e poi concluderemo con una raccolta fondi che daremo al centro antiviolenza l'Iapipitone di Palermo che aiuta delle donne in difficoltà è un evento realizzato grazie alla partecipazione di aziende carinesi che hanno contribuito al patrocinio del comune di Carini e poi ovviamente l'invito è rivolto a tutti donne e non ovviamente tutte le fasce d'età perché comunque vogliamo che il pubblico non sia soltanto presente e basta ma che interagisca possa porre dei quesiti delle domande che gli stanno a cuore o anche per saperne di più perché no quindi ricordiamo l'appuntamento l'appuntamento è per tutti giovedì 8 marzo al teatro Totucciaiello di Carini con ingresso libero vi aspettiamo per questo evento che si chiama per l'appunto Donna ogni giorno realizzato e organizzato dalla mia agenzia anzi ringrazio il mio staff per questo delle measure communication e quindi vi aspettiamo numerosi grazie e domani sera alle ore 21 al teatro Lelio di Palermo appuntamento con il festival Anch'io Canto sul palco tra gli altri anche Antonino Buscemi giovane cantautore palermitano reduce dalla famosa trasmissione Io Canto sarò ospite al festival Anch'io Canto organizzato da mio padre Nicola Buscemi e sarò lì e canterò due canzoni che canzoni saranno raccontaci di più si canterò il mio inedito che si intitola Un giorno e canterò anche Amore e Bello di Claudio Baioni Ho partecipato all'ultima edizione di Io Canto 4 e poi ho fatto tantissime ospitate qui a Palermo in Italia Ci sono anche dei progetti importanti per l'estate Sì sto preparando il mio secondo inedito e che dire progetti in corso Vi aspetto domani sera al teatro Lelio alle 21 Un bacione Stiamo organizzando questo bellissimo festival che trattiene un po' tutti i talenti siciliani e anche una bella fetta della Campania che saranno presenti ci saranno dei bambini dei ragazzi e in più ci sarà una ragazza che la voglio ringraziare qui in televisione in diretta la nostra presentatrice Iana è un ospite diciamo di eccezione è la madrina della serata Tiziana Viscardi poi ci saranno tantissimi altri ospiti in giuria ci sarà il maestro Negri Oreste Scelta Cirio Greco che è un regista si opera su Napoli e che dire una bella esperienza per tutti questi ragazzi giovani che si possono mettere veramente in evidenza perché questo festival sarà trasmesso oltre alla vostra tv sarà anche trasmesso in una tv americana in America Centrale che è UNETV e ringrazio Silvia Sosa per questa diciamo collaborazione in più voglio ringraziare anche un altro amico Francesco che ci sta collaborando con altre tv nazionali e quindi un saluto anche a Francesco per questa bellissima collaborazione vi aspetto tutti il 24 febbraio al Teatro Lelio è tutto grazie per l'attenzione come sempre vi do appuntamento alla seconda edizione alla prossima Grazie a tutti.